Ciao, sono Francesco Andreotti e delle riprese. Grazie. Vieni pronto Alessandra, sono Francesco Andreotti e delle riprese. Il terrazzo sarebbe qui accanto di qua. Ascolta, noi non esistiamo, partici, parla, questa qui è la cucina che abbiamo comprato più lontana, più vicino a me, è un lampino. Invece noi lo mettiamo un foglio, però loro lo fanno tutto bene. Partito? Mi chiamo Massimo Insogna, ho 37 anni, ho una piccola azienda. No, non ne ho 37, ne ho 36. E' l'altro smodiano. Sacco acceso il forno e salta tutto. In questo caso, queste esperienze. Il pirullo laggiù, se ce la fai. Ora mi è entrato nell'inquadratura. Il pirullo autottono. Non è praticoso dire, io pensavo del Natale vado a curare gli animali, o a tagliare l'erba, perché è divertente proprio quello fare. Sì. Ma lei è massimo. No, la via tagliare. Vai giù dalle scale, le sali poi. A presto. Numria nonocchi. Un pallone nonocchino. Noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.